Certo. Certo. Non disturbate il mio bene. Dormi. Non si è ancora ripreso dall'influenza. Mi ricordo che dissero che sarebbe passata con la primavera, ma che dovevamo farci testare. Non ci piace molto la compagnia. Beh, il KSC non perde mai un casino. Non smettono mai di stupiti. Non si è ancora ripreso dall'influenza. Cos'è? Non si è ancora ripreso dall'influenza. Non si è ancora ripreso dall'influenza. Non si è ancora ripreso dall'influenza. Torce accesa. Ricarico! So via, un po' di buone maniere. Che cos'è? Munizioni qui. Che cosa non è? Ok, forse Hoffman non è così strano, dopo tutto. Oppure è il nuovo standard della normalità. Sai che posso sentirti? Dove sarebbe il divertimento se non potessi? E gli ultimi giorni del crollo la strada è stata intasata dal traffico. Ma con un po' di ingegno riuscirete a passare. Scusa, ti ho rovinato la giornata? Che cosa? No, un picchiatore! Ricarico! Ti ho fatto male? Cos'è? Laggiù! Forza, forza! Uno per tutti e tutti per uno, no? Mi viene da vomitare. Ho visto quel... Detonante, no! Continuiamo a cercare. Basta spostare il rimorchio! Occhi aperti! Forza! Capri più di mezzo! Lì! Laggiù! Io vado! Cos'è? Laggiù! Entro! Guarda, datemi una barba! Manzioni di distanze! Sto affinando i colpi! Attenzione, cazzo! Detonante! Ho pochi colpi! Ricarico! Come vai a essere ancora in mezzo? Oggi non hai fortuna. Mi hai sentito? Ti ho detto di lasciarmi in pace! Tolli che... Guardare? Tolli che la situazione? Ciao! E' il tuo giorno fortunato, Ei-chan. E' il tuo giorno fortunato, Ei-chan. Abbiamo perso il contatto con una pattuglia. C'è una ricarica. Attenzione, la minima stradezza. La faccia tua! Si inizia. Una mano mi farebbe molto comodo. Grazie, Carly. Grazie. Posso non fregnare. Ah, è da ricucirla. Forza, muoversi! Ah, è da riccari. I gottai col. Su via, un po' di buone maniere Grazie, Doc Ah, qui qualcuno si è dato alla pazza gioia È per me C'è una talpa Vendete Ok, basta Grazie Vediamo se stanno ballare Minimizza Ecco Perfetto Ora potro dimenticarmi il tuo compagno Etonate È carico Non mi piace E mi preoccupa il fatto di non sapere come Fantastico cosa si può fare con ago e filo Accusa bello No 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 Grazie a tutti. Uccelli! Sì, ho delle vende. Ricarico! Serve a me. Attenzione, uccelli! Più avanti c'è una vecchia chiesa. Potrete riposare un po'. A occhio, forse gli infestati non sono l'unico problema. Da quel che so, il posto è ridotto male. Dovrete usare un po' di olio di gomito per sistemarlo. Picchiatore! Ricarico! Un mitra! Non c'era il nome di nessuno. Non c'era il nome di nessuno. Ricarico! Cos'è? Arria! Una granata! Sarà più luce qui. Si avranno visto. Non spavessi nessuno. Sperzzetemi! Sperzzetti! Sperrro! 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 Sperartz note! Lo vieni! Un picchiatore Non muoversi Ok grazie Non farà male Sono a posto Ecco a me non serve Granata Potrebbe tornare usato Ecco può sempre servire È finita no? Ora possiamo andare a casa Vero? Un mitra Vediamo cosa abbiamo qui Grazie a tutti Qualcuno ha perso delle informazioni Un fucile d'assalto Figo Dio ci aiuti Non colpiamola o fa casino Entro In arrivo Togli l'attimo Uccelli, laggiù Scusa Già ho rovinato la giornata Devo ricaricare Che cos'è? Attenzione! Che danasse! Laggiù? Sei un medico Sembra del carameggio La gente non perde Cosa capitale? No Detonante, là! Un tubo a bomba! Per me. Bacete! Bisogna di cucine. Hai visita a domicilio? Andiamo allora! Detonante in arrivo! Prima le signore! Guarda, ricarico! Dove mi? Ricarico! Chiedo scusa. Che schifo! Minigun qui! Minigun! È per me! A presto! Oh! Oh! No, 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 no. Come? Prego! Laggiù! Sì, per me. Devo ricaricare! La! C'è una carta! È corrosivo! Accuccio, bello! Ricarico! Sennizzo! Ricarico! Occhio! Aiuto! Sono stanca di salvarti le piappe. Grazie, Carly. Visto? Brutta situazione. Grazie, Doc. Sapete che Carly prende fuoco se passasse un suolo consacrato, no? È morto qualcuno. Kit medico. Perfetto. Detonate! Ricarico! Niente abbracci! Sto bene, cazzo! Sei stovetta. Sto bene, cazzo! A voi serve? Cosa darei per un ambiente sterile? Le medicine sono una benedizione! Devo avere potenzione! 電 sorti sono una benedizione! Da, non ti ho ragione! No, così non va bene. Prendere le finestre ora! In arrivo! Non fuori a terra! A terra! Non fuori a terra! Evitiamo fissieri da. Grazie! Mette sempre su! Mastelta! Fantastico cosa si può fare. Comunque il fiore. Siamo in carico! Calma! Ti spiace sparare ai cattivi. Fai più attenzione a dove vai. Aiuto! Mette sempre su! Mette sempre su! Non studiate! Mette sempre su! Basta, prima! Che c'è? Te le vende! Grazie, Edo! Sono totalmente accettate! Una granata! Prendiamo quelle finestre! Prendiamo quelle finestre! Grazie! Ok! Come? Prego! Puoi fare la finestre! Prendiamo le finestre! Prendiamo le finestre! Prendiamo le finestre! Come vai a essere ancora in giro? Scusa, è tutto ok! Qualcuno mi darebbe un aiutino? Penso io, cara. Sono circondato. Ok, grazie. Sono a fuoco. Spendiamo quelle finestre! Un po' solo che sono uomini, squadra. Ci avremmo messo alla metà del tempo. Sono a fuoco. No, no, no. No, no, no.